Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi che si inserisce nel progetto Delivery Unit Nazionale che Formets gestisce per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il webinar di oggi chiude il microciclo che si è avviato con il webinar del 18 novembre e è sempre basato sugli esiti del progetto della riforma e della semplificazione delle ispezioni in materia ambientale. Il raccordo tra il primo e il secondo webinar ci verrà presentato dal dottor Amigoni che aveva già condotto il webinar precedente. Vi ricordo che per intervenire o per porre domande, per portare la vostra riflessione, il vostro contributo ai lavori della giornata potete scrivere in chat e poi provvederò a riportare le domande ai diversi relatori, di volta in volta ai relatori. Abbiamo pensato di riservarci uno spazio in chiusura del webinar e il webinar di oggi dura 120 minuti, un po' di più del precedente ma proprio per la ricchezza dei contributi abbiamo pensato di riservarci uno spazio maggiore. Vi dicevo in chiusura pensavamo di lasciare uno spazio per le domande ma se ci sono domande legate al singolo intervento vi invito a porle e a scriverle in chat così da valutare se necessitano una risposta immediata o possono poi far parte dello spazio domande. Detto questo io invito il dottor Amigoni a collegare webcam e microfono così da potergli passare la parola, a carico la sua presentazione. Buongiorno dottor Amigoni, ci dica che si sente tutto? Va benissimo. Perfetto, va benissimo. Allora io resto qui dietro in back quindi se ci sono problemi scrivete in chat e vi lascio al dottor Amigoni. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, buongiornata, io sono Franco Amigoni, consulente dell'organizzazione per la cooperazione dello sviluppo economico e ho il compito di collegare i due webinar, il primo che si è rivolto il 18 di novembre e il secondo di oggi che sarà più tecnico, che avrà alcune caratterizzazioni più legate alle tecnologie abilitanti. Buongiorno a tutti. Caratterizzato da una molteplicità di provenienze anche geografiche e di esperienze che ci stanno consentendo una grande contaminazione molto proficua di punti di vista finalizzate alla migliore possibile condivisione di strategie e obiettivi con i nostri partner. I territori coinvolti nel progetto RAC2 come dicevo sono cinque regioni che coinvolgono sia enti locali che agenzie in particolare le ARPA su questi territori. Come dicevo il primo webinar del 18 novembre ha avuto un taglio più legato agli aspetti organizzativi, legati per esempio alle checklist, alle scoreboards e alle linee guida, per dire alcuni contenuti, mentre in questo caso oggi ci soffermeremo di più sugli aspetti tecnologici. Gli ingredienti base di quella che possiamo definire la ricetta RAC2 di Oxe, in questo progetto che si sta sviluppando in Italia, sono quelli che vedete in questi box. Molto sinteticamente c'è un tema sicuramente di organizzazione, come avete visto anche nel gruppo di lavoro, ma che si riverbera anche sui gruppi di lavoro interni agli enti locali e alle agenzie. Un tema di formazione e di valorizzazione delle competenze e sicuramente un tema di innovazione tecnologica che deve essere ausiliario e di sostegno però a quelli diciamo organizzativi e di approccio. Molto importante è stata ed è la costruzione di reti orizzontali e verticali, reti orizzontali tra tutti i partner e insieme ad Oxe e un tema verticale nel senso che si passa dal locale fino alla centrale, fino ad arrivare anche ai ministeri e al governo per portare all'attenzione quelle che sono le soluzioni e gli esiti del lavoro in corso. C'è stata una grande condivisione sia dal punto di vista geografico che anche trasversale delle migliori pratiche che sono emerse nel corso del lavoro e contestualmente c'è un tema che qui vedete in un blu più scuro perché di fatto è il perno, diciamo che usando la metafora della ricetta potrebbe essere considerato il lievito della ricetta, della torta, nel senso che abbiamo avuto un impegno costante in questi due anni dei territori coinvolti come partner ed è una cosa abbastanza importante, sicuramente importantissima ma anche non così facile da reperire anche confrontandoci con i colleghi a livello internazionale, altre regioni a livello internazionale non hanno dato lo stesso contributo, la stessa costanza di contributo, con passione, impegno e competenza che stanno garantendo invece le cinque regioni che vi ho nominato. Non sto a tornare sui contenuti che abbiamo già discusso e analizzato nel primo webinar del 18 novembre, solo un rapido flash sui componenti di un modello di rischio ambientale che sono basati su tre pilastri fondamentali, il primo le caratteristiche strutturali delle imprese che potremmo definire le caratteristiche statiche delle imprese così come sono, di che cosa trattano le merceologie, dove sono collocate per esempio, le informazioni invece dinamiche raccolte durante le ispezioni e il terzo pilastro è quello della storia dell'impresa. Un altro flash rapidissimo anche sulle sfide relative alle imprese soggette ad AWA che è il focus dei nostri incontri. Ricordo che nel micro ciclo di due webinar sono stati iscritti complessivamente quasi 600 persone che quindi dimostrano il grande interesse a livello nazionale per queste tematiche. Solo un flash anche su questo, il training degli ispettori. Nel momento in cui si mettono a punto delle ottime checklist, delle ottime scoreboards, linee guida e anche ci sono delle fantastiche tecnologie abilitanti, poi nel momento in cui invece gli ispettori dovessero avere approcci eccessivamente eterogenei al momento di entrare nelle imprese, quindi fare delle ispezioni, questo potrebbe in parte fare venire meno l'efficacia del meccanismo che è stato creato. Io passo a questo punto, vi ringrazio per la partecipazione di oggi e passo la parola a chi entrerà più nel dettaglio degli aspetti tecnologici. Grazie e buona giornata. Grazie mille per la presentazione al dottor Amigoni. Invito il dottor Padovani, direttore del settore attività produttive dell'ARPA Lombardia a prendere, ecco, ad accendere webcam e microfono. Buongiorno dottore, le condivido subito la presentazione. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora io oggi cercherò di presentare un po' quella che è l'attività che ARPA Lombardia svolge in tema sia di programmazione dei controlli AIA e come gestiamo i dati di autocontrollo. E sarà proprio su questo tema la gestione della grande mole di dati di autocontrollo che noi riceviamo che la collaborazione con OXE per noi è fondamentale per cercare di andare a mettere a sistema e trovare delle soluzioni per valorizzare tutte queste informazioni. Innanzitutto partiamo da una situazione dove abbiamo più di 1800 aziende AIA, circa 760-780 allevamenti e 1100 aziende industriali. Quindi come potete immaginare l'impatto e la dimensione delle nostre attività è un impatto veramente sostanziale e molto complesso. Il piano di controlli, come un po' per tutte le agenzie, noi definiamo annualmente quali sono un po' le attività e i numeri di controlli e di ispezioni da svolgere. E se per alcune tipologie di attività, tipo i controlli sui depuratori, le frequenze di ispezioni e di campionamento sono dettate dalla norma in base anche alle dimensioni, sulle altre tipologie di attività o sono previste programmabili annualmente, quindi noi svolgiamo un controllo sui impianti che hanno emissione in atmosfera. Sulle aree industriali, sulle aree zootecniche, la frequenza in particolare sulle aree industriali viene definita un po' dal rischio dell'impresa, rischio ambientale dell'azienda. Come la calcoliamo? Come già molte agenzie stanno utilizzando attraverso il sistema di supporto alla programmazione dei controlli, ovvero l'SSPC che in Lombardia è nato già nel 2015 e poi nel 2017 è stato istituzionalizzato. Per cui attraverso questo sistema che porta a definire qual è l'impatto e l'impatto di ogni profilo di pressione di ogni azienda, in base anche alla localizzazione sul territorio, viene poi stirata una graduatoria numerica, un peso per ognuna delle 1800 e passa attività AIA presenti in Lombardia. Per dare un esempio, il profilo di pressione dell'azienda lo potete notare col grafico in rosso, viene definito in base alle tipologie di emissioni, a quanti rifiuti producono, a quanti si trattano rifiuti, a se hanno scarichi in corpi edici superficiali e poi viene individuato per esempio quale può essere l'impatto sul territorio, quindi localizzazione referenziata nell'ambito del territorio e qui vi faccio, vi ho portato un esempio, l'interazione col sistema per la qualità dell'aria, quindi se un'azienda si trova in zona A, quindi in una zona critica per la qualità dell'aria, allora viene incrementato, come vedete, il punteggio, si passa da 4 a 5, viceversa se l'azienda si trova in un'area dove la zona C, dove la qualità dell'aria è comunque buona, non abbiamo particolare criticità, in questo caso il valore dell'impatto delle emissioni in atmosfera si riduce, ma allo stesso modo dobbiamo definire anche l'attendibilità dell'azienda, in questo caso l'SSPC, il nostro sistema di definizione del peso di ogni installazione AIA si basa anche sull'affidabilità del gestore, quindi se un gestore è stato soggetto ad una segnalazione, una sanzione penale, viene aumentata di un punto tutto il profilo di impatto, viceversa se il gestore è un gestore più affidabile, perlomeno che si è dotato per esempio di una certificazione, di una registrazione EMAS, in questo caso il peso dell'azienda, quindi il profilo di impatto, si riduce di un punto. A questo punto noi come gestiamo e come andiamo a definire queste informazioni? Sicuramente ci basiamo sull'acquisizione dei dati del piano di monitoraggio e controllo attraverso questa piattaforma web dove ogni azienda si inserisce e annualmente inserisce tutta una serie di tutti i dati previsti dal proprio piano di monitoraggio e controllo e mi riferisco non solo alle emissioni, ai dati dei campionamenti delle emissioni, ma anche alcuni dati di processo. Per darvi un esempio nel 2021 erano circa 1800 i gestori che hanno compilato questo sistema e la piattaforma web attualmente sono previste 30 diverse sezioni dal consumo energetico, dal consumo delle risorse idriche, gli scarichi e poi anche alle emissioni in atmosfera, quindi i dati relativi ai campionamenti e alle analisi sulle emissioni. Così come per la parte zootecnica sono definite gli aspetti delle sezioni specifiche per tipologia di attività. Di quanti dati parliamo? Lo vedete qua, il sistema è partito nel 2007, ovviamente con un numero inferiore di aziende collegate, al 2019-2020 parliamo di centinaia di migliaia di dati, qui sull'acqua di scarico vedete nel 2019 abbiamo registrato 191.000 dati e lo stesso sulle emissioni in atmosfera siamo a 40.000, 30-40.000, quindi una mole di dati veramente enorme che è necessario e indispensabile valorizzare. Come valorizziamo questi dati? Questi dati, un primo esempio per quanto riguarda le discariche, vengono inseriti tutti i dati delle campagne di monitoraggio dei piezometri, in questo caso le informazioni vengono poi elaborate per esempio per valutare l'eventuale rischio di fuoriuscita di percolato in acque sotterranee. Questo è un possibile esempio, si prende come parametro di indicatore la conducività elettrica e si verifica la differenza tra monte e valle e potrebbe essere un segnale nel momento in cui dovessimo avere un dato estremamente diverso, un segnale che qualcosa magari sta succedendo al di sotto della discarica. Però queste modalità di gestione dei dati però comportano delle ulteriori elaborazioni, valutazioni statistiche, analisi specifiche. Da qui proprio la collaborazione con OXE per noi è fondamentale, infatti nel 2022 abbiamo attivato una collaborazione proprio per supportarci nell'analisi di questa massiccio presenza di dati e anche i dati relativi alle verifiche ispettive di specifiche categorie. Partiremo probabilmente con le galvaniche, circa 200 aziende per cercare di mettere in confrontare proprio queste analisi dati anche per valutare la reale corrispondenza tra le analisi e gli autocontrolli presentati e il posizionamento delle singole aziende nell'ambito di un range di parametri che riteniamo possa essere un range serio. Quindi la verifica dei sistemi di elevazione, di scostamenti, indici anche di performance delle singole aziende. Scopo, come vedete, è proprio valorizzare il significativo patrimonio analitico disponibile in questo applicativo web, facilitare, standardizzare e migliorare il lavoro preparatorio dell'ispettore prima della vista ispettiva. Noi siamo certificati di ISO 9001, la nostra procedura, istruzione operativa, prevede che prima del sopralluogo in campo si estragano tutti i dati di autocontrollo, si svolgano, si verifichino il rispetto dei valori limiti e poi si valutino anche quali possono essere i consumi specifici di acqua piuttosto che di energia e si valuta un po' il trend nell'arco degli ultimi due anni, tre anni, dall'ultima vista ispettiva fino all'attuale. Noi pubblichiamo anche sul nostro sito i flussi di massa relativi alle emissioni di atmosfera e in acqua, però sono flussi generali a livello regionale, a livello di tipologia di attività e anche a livello provinciale, però quelli sono proprio dati relativi ai flussi di massa, non ci danno un reale impatto di come la singola azienda si colloqui all'interno delle aziende con autorizzazione integrata ambientale. Da qui gli altri due punti di collaborazione con Oxe saranno proprio l'analisi del sistema di registrazione delle non conformità, anche per andare a migliorare e a, come si diceva anche prima, l'approccio dei singoli ispettori e individuare anche delle valutazioni statistiche su queste non conformità che noi registriamo, perché io ritengo che sia fondamentale anche a livello di agenzia comprendere se lo sforzo che noi stiamo compiendo nei 350 controlli all'anno su queste aziende dal 2007 ad oggi poi portano ad un beneficio reale, cioè riscontriamo un miglioramento da parte delle aziende oppure riscontriamo sempre le stesse inottemperanze, quindi questo è un altro aspetto sul quale con Oxe cercheremo di trovare degli spunti, delle collaborazioni. In ultimo, previsto tra l'altro fine marzo un seminario qua a Milano, è sviluppare anche un percorso di formazione degli istruttori e degli ispettori, proprio confrontandoci con anche gli esperti di settore internazionali, in modo da garantire quello che si diceva prima, un approccio il più possibile uniforme del tecnico quando entra presso le aziende. Questo io ritengo sia un aspetto molto rilevante e che pone in sicurezza tutto il sistema agenziale, in quanto l'uniformità d'approccio sul territorio è un elemento fondamentale per qualsiasi azione di controllo che sia corretta e coerente e in più anche trasparente. In poco tempo spero vi avevi dato un amore di informazioni non indifferente. Grazie a tutti. Grazie mille, invito il dottor Rampanelli ad accendere webcam e microfono, così da potergli passare la parola. Il dottor Rampanelli, buongiorno, è dirigente del settore dell'autorizzazione e controlli dell'APPA, dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e della Provincia Autonoma di Trento. Passo a lei la parola. Eccoci qua. Grazie, buongiorno. Vi parlerò di un approccio che stiamo seguendo recentemente in Trentino per la pianificazione dei controlli sudditte, soggette a autorizzazione unica ambientale, che da noi è stata declinata come autorizzazione unica territoriale, a delle leggere differenze rispetto alla disciplina nazionale. Ovviamente in provincia di Trento non abbiamo i numeri della Lombardia, siamo 540.000 abitanti e una quantità consistente di pernottamenti turistici, 12 milioni l'anno scorso. Abbiamo 55 autorizzazioni AIA, 1455 OUT, che sono le AUA, e 174 autorizzazioni di recupero rifiuti in semplificata. Questo come numeri abbastanza generali del sistema. La struttura dove lavoro, che è APA, ha avuto una importante organizzazione due anni fa, in cui è stato istituito un settore che si occupa delle autorizzazioni e di controlli su alcuni tipi di autorizzazione. di fatto noi ci occupiamo, appunto, di rilasciare le autorizzazioni uniche territoriali, le AUA, le AIA, le autorizzazioni al trasporto trasfrontaliero di rifiuti e varie altre autorizzazioni ambientali che ho riassunto, in generale scarico sui dico superficiali, bonifiche e quant'altro. La provincia di Trento, infatti, ha una disciplina normativa provinciale che demanda strutture diverse rispetto alla norma nazionale alcuni adempimenti. Dal punto di vista dei controlli, APA ha due nuclei di controllo, un nucleo ispettivo che fa capo alla direzione, con tre ispettori, quindi i nostri numeri sono esti, insomma, dove vengono svolte normalmente attività di indagine, più strettamente in coordinamento con l'autorità giudiziaria, no? E, invece, altri cinque ispettori sono all'interno, appunto, del settore autorizzazione dei controlli che svolgono normalmente l'attività di controllo ordinario e straordinario sugli impianti. Quindi, tutte le attività di verifica, indagine, ispezione in impianti AIA, AUT e quello che è necessario, appunto, come controlli ambientali di competenza. Di fatto, sui controlli delle autorizzazioni uniche territoriali, le AUA, abbiamo tre tipi di controlli, no? Le verifiche sugli autonomi controlli, le verifiche secondo il protocollo di collaborazione che APA ha stipulato con Ispra ormai da tre anni, questo, appunto, sta proseguendo regolarmente, dove la stessa Ispra, focalizzandosi sul tema rifiuti, quindi impianti di rifiuti, ci chiede di effettuare un certo numero mirato di controlli su ditte che lavorano nel tema dei piccoli fuori uso, iscrizione semplificata e end of waste, ovviamente. Oltre a questo, verifiche su segnalazione, no? Quindi, le varie segnalazioni che in mattino tutte le ARPA poi ricevono periodicamente da chiunque, da polizia locale, piuttosto che cittadinanza, o forze di polizia nel loro servizio, insomma. Nell'anno in corso, ad oggi, abbiamo effettuato 172 ispezioni di questo genere, con, appunto, i cinque ispettori in capo alla struttura. Di fatto, abbiamo trovato una criticità, che è quella di cui volevo parlarvi oggi, che viene da questo. Tutti i controlli ordinari pianificati, ovviamente, si riferiscono a ditte che sono già in possesso di un'autorizzazione ambientale. Restano, quindi, sconosciuti tutti quegli impianti che esercizcono attività... Ok. Ah, vedo una domanda. Se volete rispondo già subito. Allora, noi... Sì, voglio rispondere subito. Sì? Ok. Allora, per quanto riguarda le semplificate o le utilizzazioni secondo articolo 208, allora, secondo la disciplina delle out provinciali, le ditte, appunto, che richiedono un'autorizzazione secondo articolo 208 per, appunto, gestione dei rifiuti, rientrano all'interno delle out. Le semplificate che ho citato prima sono autorizzazioni singole, no? Al di fuori delle out. Cioè, ditte che hanno solo una semplificata, sostanzialmente. o, al massimo, un'autorizzazione per, secondo le disegni bi-generali, per le emissioni in atmosfera. Sì, ma secondo la disciplina provinciale, solo se c'è almeno un'altra autorizzazione. Ad esempio, quelle delle emissioni in atmosfera. Quindi da noi la disciplina partiamo dal decreto del DPR 59 2013, ma è stata declinata nel 2018 in una forma leggermente diversa. Il tema, ah, vedo che sto ancora... Ah, ok. Allora, il tema, appunto, di cui volevo parlare, era appunto impianti che lavorano al di fuori della norma. No? Noi siamo in collaborazione ormai da alcuni anni con il team dell'Ocse per lo sviluppo di strumenti innovativi e abbiamo immaginato un metodo di individuazione di ditte che stanno lavorando senza autorizzazioni. Questo non vuol dire che lo fanno volontariamente, a volte, a volte, semplicemente attivano dei macchinari o compri macchinari e non sanno che devono essere autorizzati al loro utilizzo. Mi spiego meglio. Noi partiamo da un sistema informatico già presente dove tutte le autorizzazioni vengono gestite. vengono gestite e quindi vengono gestite le istanze, tutte le procedure di autorizzazione, sono contenute tutte le autorizzazioni emanate e man mano magari modificate negli anni, ovviamente, e quindi abbiamo una conoscenza puntuale di tutto quanto è autorizzato in provincia di Trento. Da questo punto di vista, nel nostro sistema ho estratto che ad oggi sono vigenti 1455 out in provincia. Vigenti vuol dire atti che sono tuttora validi e non scaduti. Da questa autorizzazione abbiamo estratto un dato molto semplice che è la partita IVA di tutte le ditte autorizzate. Qua interviene il Team Oxe che ha sviluppato un applicativo che stiamo testando che va a ricercare in internet pagine web che riferendosi a impianti che hanno sede in Trentino, in provincia di Trento, hanno anche delle parole chiave di rilievo, ad esempio segherie, carrozzerie, carpenteria metallica, serigrafie, tipografie e via dicendo. E una partita IVA. Questo software va a scandagliare la rete e produce degli elenchi delle delle pagine web che vengono ritrovate dove vi è almeno una partita IVA dove vi è una ditta che rientra in questi criteri che vi ho appena detto e verifica anche se questa ditta è già all'interno, tramite la partita IVA, del nostro sistema informatico. Quindi, incrociando i dati ottenuti, si ottengono degli elenchi di ditte potenzialmente senza autorizzazione. Potenzialmente perché, e adesso questo lo stiamo verificando proprio in questi periodi, in questi mesi, prima di tutto perché gli elenchi sono da verificare sul campo, ovviamente. Quindi sono state pianificate, sono in corso, ispezioni mirate su ditte che vengono evidenziate da questi software. Abbiamo dei risultati abbastanza positivi, abbiamo circa una metà di ditte che vengono evidenziate dal software, dove probabilmente c'è qualche violazione di norma. In effetti abbiamo notato qualche aspetto che necessita un affinamento. Ad esempio, spesso le pagine web hanno degli errori. Magari la ditta c'è alla pagina web, ma la pagina mostra la partita IVA sbagliata. O magari la partita IVA è giusta, ma nella pagina web è citato un impianto dove il comune è sbagliato e quindi non salta fuori nei nostri elenchi. Quindi abbiamo anche, certo, assolutamente, infatti tutti gli elenchi vengono spulciati e poi verificati man mano. Sarebbe utile magari avere degli elenchi un po' più raffinati, ecco. In effetti, da quello che vediamo, però, in effetti circa un 50% delle ditte che vengono evidenziate dal software mostrano una carenza di autorizzazione per qualche aspetto. Tipicamente sono emissioni in atmosfera o modifiche sostanziali di impianti che hanno emissioni in atmosfera ma che non sono stati dichiarati. Quindi questo è un lavoro ancora in corso. Vi ho dato appunto un flash sul lavoro che stiamo facendo. Ovviamente procederemo nei prossimi mesi per andare a concludere l'attività e dare appunto al Team Ox qualche suggerimento su come tarare il software. Vedo, ok, per i cambi di titolarità non comunicati. Questo però effettivamente non è mai successo nei ditagulati. Quindi probabilmente per le parole chiave che avevamo usato le ditte non avevano... Però effettivamente è un altro tema importante. Sì. 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 comunque presenti, ovvero quelli su web e sui social, visto che le aziende, come anche noi, lasciano una traccia di dati e di informazioni su web. Io sono lieto di arrivare dopo i due precedenti interventi, perché sono proprio legati a due, vogliamo due e mezzo di questi aspetti, quindi ringrazio gli ingegneri Rampanelli e Padovani perché mi rendono molto più semplice questa presentazione. Prendendoli una alla volta, il primo approccio, quello che utilizza appunto i dati caratterizzanti l'impresa e il suo comportamento è quello un po' più standard, quello più diffuso e che prende solitamente in considerazione due dimensioni del dato, la dimensione ex-ante e la dimensione ex-post. Qui per ex-ante intendo tutte le caratteristiche oggettive di un'impresa, quindi si diceva il tipo di attività, dimensione, la collocazione geografica, dove per collocazione geografica si intende, si intendono anche le caratteristiche ambientali e antropomorfizzanti della zona, insomma, per dargli una valutazione, ma potrebbe essere anche l'età dell'impresa e quant'altro. E le caratteristiche ex-post, quelle che mi danno delle indicazioni su come l'impresa viene condotta. In questo caso la principale fonte di informazione è l'esito dei controlli, ma anche procedure, certificazioni, cose che mi possono far comprendere come l'impresa opera, se opera in buona maniera oppure no. Questi due assi solitamente vengono interpretati tramite strumenti tipo scorecard, dove ad ogni caratteristica viene associato una sorta di punteggio, e poi combinate assieme. La combinazione di questi due assi può avvenire o tramite una matrice di rischio, come quella che vedete nell'immagine in basso a destra, oppure come strumenti diversi. Secondo me in questa discussione avete riconosciuto uno strumento molto utilizzato, è stato citato poc'anzi, l'SSPC, che di fatto fa un tipo di analisi simile, non utilizzando una matrice di rischio, ma il risultato è lo stesso. Ovviamente in questo caso l'obiettivo è quello di fare una pianificazione, scegliere ad esempio le frequenze di ispezione alle imprese, quindi è pianificazione dei controlli. Qui la data science come può aiutare? In vari aspetti. Il primo aspetto è quello legato più alla statistica descrittiva, nel momento in cui bisogna scegliere che caratteristica utilizzare e che peso dare a queste caratteristiche, ma soprattutto anche che soglie dare, ad esempio su una dimensione di un'azienda, come faccio a dire quando è un'azienda piccola, quando è media, quanto è grande. Ecco, in questo caso la statistica descrittiva può dare agli esperti una visione di come si distribuiscono queste caratteristiche nella popolazione, visione che può essere utile appunto per definire in maniera corretta le scorecard. Un'altra utilità della data science in questo è l'utilizzo di tecniche più legate. Forse è sparita la condivisione? Noi vediamo tutto perfettamente, credo che lei avesse soltanto messo uno schermo. Ok, ok, con la forza del pensiero perché ho le mani libere, ma con il PC non si può mai sapere. Un altro strumento utilizzato è quello delle regressioni o altre tecniche di machine learning che cercano di tarare queste pesature delle scorecard utilizzando i dati storici, un set di dati supervisionati, ad esempio gli esiti dei controlli. Ultima cosa, prima di cambiare slide, è molto importante ragionare sulle due dimensioni di dati, cioè sulle caratteristiche oggettive e soggettive, perché sono strettamente legate a due aspetti, cioè l'assessment dell'impatto e quello della probabilità, che è una cosa che sta alla base dell'analisi del rischio. Facendo un esempio stupido, quando mi trovo a uno stop fermo con la mia macchina, ho diritto di precedenza, guardo a sinistra, vedo un mezzo, faccio subito una valutazione di rischio, inconsciamente valido questi due aspetti. Cerco di capire se la macchina è intenzionata a darmi la precedenza o no, guardando il comportamento della macchina, guardando magari il conducente se riesco a vederlo per capire se mi ha visto, eccetera, eccetera. Ed è una valutazione di probabilità. Ma faccio anche una valutazione di impatto. Sto parlando di una smart o di un autoarticolato? Queste due cose agiscono in attivazione. La probabilità, se io vedo che il conducente mi sta guardando negli occhi e si è fermato, sono sicuro e non mi importa se sia una smart o un autoarticolato, perché comunque sono ragionevolmente sicuro che è fermo. Ecco, questi aspetti devono essere riportati anche negli strumenti. Passando invece al secondo approccio, quello di analisi dei fenomeni che derivano dall'impresa, qui riporto un unico esempio, il lavoro che stiamo portando avanti appunto con ARPA Lombardia. In questo caso utilizzando il grandissimo archivio storico di analisi chimiche delle aziende sottoposte ad AIA, utilizzazione AIA. In questo caso facendo due tipi di analisi. Il primo è la ricerca di correlazioni tra diversi elementi che vengono emessi in atmosfera. Ci sono alcuni elementi, poi mi scuserete, io non conosco bene il dominio, quindi potrei dire delle imprecisioni, ma mi riferisco al grafico che vedete in alto a destra, dove sono rappresentate le emissioni di cromo e suoi componenti e nickel e suoi componenti. Ecco, facendo un'analisi di questo tipo emerge che nelle aziende, nelle analisi chimiche fornite dall'azienda, c'è una certa correlazione tra questi elementi che rimane più o meno costante nel tempo. Ecco, alterazioni significative di questa correlazione possono portare a soglie di attenzione, che non vuol dire necessariamente che ci sia un caso sospetto, ma sicuramente qualcosa che vale la pena approfondire. L'altra analisi è legata invece alla distribuzione degli errori e parte dal presupposto che gli errori delle misurazioni hanno caratteristiche di essere indipendenti gli uni dagli altri e identicamente distribuiti. Facendo un'analisi di questo si può verificare che ci sono delle circostanze in cui gli errori non rispettano queste caratteristiche e anche in questo caso potrebbero essere indicazioni di situazioni sospette, ad esempio quando ci si avvicina ad una soglia che in qualche modo le misurazioni si accumulano senza superarla. E questo è il caso dell'altro grafico che vedete, che poi è un raggruppamento per cluster di errori, ma senza scendere in dettagli che non saprei neanche spiegare bene. Passo all'ultimo sorgente. L'ultimo approccio è quello che è stato appena illustrato da Rampanelli e qui come funziona dal punto di vista un po' più tecnico questo questo algoritmo, questo software. Esegue appunto una ricerca su web per andare alla ricerca di pagine che corrispondono a determinati criteri di ricerca, così come se facessimo una ricerca su Google, niente di particolarmente più sofisticato. Successivamente agisce un primo filtro per fare una scrematura delle pagine che sicuramente non riconducono un'azienda, tipo pagine bianche o altri aggregatori di informazioni che non rappresentano un sito web di un'azienda. Nel terzo passaggio, è il passaggio più complesso, dove la pagina viene interpretata sia a livello di struttura, sia a livello, in parte almeno semantico, per andare alla ricerca di alcuni elementi, quali appunto codice fiscale, ma anche numeri telefono, ragione sociale e quant'altro. E questa è la parte che ha più potenzialità di essere, di evolvere verso uno strumento più efficace. È una parte complessa perché non tutte le informazioni sono sempre disponibili, ben strutturate nell'home page, ma molto spesso c'è la necessità di scendere in profondità e andare a navigare in maniera automatica nelle sottopagine, ma alla fine ecco quello che viene prodotto è un elenco che riporta ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, eventualmente altri dati come il mobile telefono, ma soprattutto il link al sito web, in modo che l'ispettore possa dare un'occhiata per capire se è pertinente o meno, e il link sulle mappe di Google, in modo da poter anche avere una visione della collocazione geografica. Ultimo esempio che vi voglio presentare, anche se non è per niente questo legato all'ambiente, è un'analisi di dati invece presenti sui social, in particolare in questo caso è legato a food safety, quindi sicurezza alimentare, la sorgente di dati sono i social che si occupano di ristoranti, quindi contengono recensioni di ristoranti e da questo sono stati scaricati circa poco meno di 2 milioni di recensioni, parte di queste sono state filtrate e sono state supervisionate, cosa significa? Sono state caricate su un sistema che consente a delle persone insomma di visualizzare le recensioni e di indicare qual è il tipo di sentiment che viene espressa in termini non di positivo o negativo, ma in termini di presenza di potenziali problemi legati all'igiene o potenziali problemi legati a intossicazione o di entrambi o nessuno. In questo modo si sta ottenendo un dataset supervisionato che può essere utilizzato da una rete neurale convolutiva per addestrarla a riconoscere in una recensione quando ci sono problemi di questo tipo. Non si tratta semplicemente di filtrare alcune parole perché ovviamente deve esserci un'interpretazione più sofisticata perché la stessa parola tipo igiene o pulito nel momento in cui scrivo il locale mi è sembrato molto pulito o il locale non mi è sembrato affatto pulito, la parola è la stessa però ha il significato assolutamente diverso. Vedo che c'è una domanda Ah no, non è una domanda, è un'affermazione. Sì, sono ovviamente d'accordo, sono d'accordo anche su un altro commento che ho visto passare e sfrutto l'ultimo secondo per parlare di questo. Il commento era il software semplifica ma i dati vanno verificati. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti questi strumenti danno la possibilità di analizzare quantità di dati in modi che gli esseri umani per limitazioni banalmente di tempo anche non sono in grado di fare. Rimane sempre che l'intervento dell'essere umano deve essere presente presente in maniera competente in due fasi. Nella fase in cui si preparano gli strumenti per evitare che siano soggetti a dei bias troppo evidenti e nella fase poi di verifica degli risultati sempre per lo stesso motivo. Quindi c'è il rischio di affidarsi totalmente a questi strumenti non deve essere contemplato. Io non so come sono andati con i tempi ma siamo arrivati alla fine quindi non resta che ringraziare. È stato bravissimo, è stato nei tempi perfettamente quindi... Ottimo! Grazie a tutti allora. Assolutamente. Grazie a lei per la presentazione. Il prossimo intervento sarà condotto a due voci. Chiedo intanto all'ingegner Citarella di collegarsi credo che cominci lui. Buongiorno. Condivido il suo documento e poi passeremo successivamente la parola anche alla dottoressa Matonti per lo stesso intervento. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Allora partiamo subito su chi è ARPAC e quindi le agenzie regionali di protezione ambientale cosa fanno? Questo è ben noto e sono inserite all'interno dell'SNPA, cioè il Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente. È molto interessante che questa struttura a rete ha consentito una notevole possibilità di confronto tra le varie agenzie e quindi di diffusione, di conoscenza reciproca. Le attività istituzionali delle agenzie comprendono, sono molto vaste e comprendono tra l'altro, vigilanza e controllo del rispetto delle normative vigenti e sono i due punti su cui noi ci soffermeremo di più. L'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale che sanitario. Perché da questi due punti è nato un po' il problema e poi la soluzione che abbiamo messo in campo, poiché nell'ambito della vigilanza contro le ispezioni c'è tutta una produzione di documentazione per vali di sovralluogo, di campionamento che poi vanno condivisi con i soggetti controllati e fino ad oggi questo veniva realizzato con processi sostanzialmente analogici. Quindi poi c'era tutta una serie di problematiche per rendere omogene le informazioni contenute all'interno di questa documentazione, estrarle e travasarle nei sistemi di agenziali. Si è pensato quindi di procedere tramite digitalizzazione a dematerializzare proprio il processo di formazione di questi verbali. Si è quindi ragionato su come mettere in piedi un sistema che consentisse di semplificare lo sviluppo dei documenti prodotti di solito presso i soggetti controllati, quindi fuori dall'ambito dell'ufficio e come produrre immediatamente in campo quindi un documento informatico, quindi mediante apposizione di firma digitale, in modo tale da coinvolgere direttamente anche i soggetti del controllo stesso. Altra parte del problema che si è affrontato è stata l'integrazione con il sistema LIMS, cioè di gestione dei laboratori dell'agenzia, per poter estrarre da tutti questi verbali superaluogo e campionamento le informazioni utili all'analisi dei campioni che rappresentavano un problema abbastanza annoso, perché errori di trascrizione e così via comportavano rilavorazioni e ritardi. L'ultimo aspetto affrontato in questo progetto è stato quello poi di creare un ambiente di condivisione dei dati prodotti, soprattutto con i soggetti controllati, ma un ambiente che fosse di facile accesso. Nella fase iniziale ovviamente abbiamo analizzato un po' le feste practice. Mi scusi, interrompo soltanto un attimo perché l'audio è abbastanza difficoltoso, probabilmente è un problema di connessione. Può provare a spegnere la webcam, vediamo se recuperiamo l'audio, perché altrimenti è difficile da sapere. Prima non c'erano questi problemi. Adesso? Spero sia... Sembra che ci sia un po' più di continuità. Come va? Sembra che vada bene. Sì. Ah, ok. No, come stavo dicendo, ovviamente nella fase iniziale abbiamo fatto un'analisi un po' delle best practices presenti e in particolare è stata molto utile la collaborazione che abbiamo sviluppato con Arpa Lombardia che ci ha consentito di valutare una loro soluzione ai problemi che avevamo posto e da cui abbiamo tratto degli spunti preziosi soprattutto in tema di riuso e di firma grafometrica. però poi abbiamo individuato come sistema ottimale per affrontare le nostre problematiche l'ecosistema Gisa Campania. Regione Campania ha la titolarità di questo ecosistema software e lo ha reso disponibile in riuso nel catalogo nazionale Agile. Qui vediamo un po' la struttura dell'ecosistema Gisa Campania, è un sistema cloud-based, multi-tenant, quindi vediamo che è composto da vari sottosistemi che possono mantenere un loro isolamento dei dati ma che hanno la possibilità di interagire in maniera agevole tra di loro e ai quali poi è fornito uno strato comune di servizi per supportarne l'integrazione con le piattaforme abilitanti nazionali, in particolar modo pensiamo ai sistemi di pagamento PagoPA, alla cooperazione applicativa verso i database nazionali o ai servizi di registrazione e autenticazione basati su SPID e CIE. Questo è un po' lo schema di massima del sistema Gisa Ambiente perché è la particolarizzazione che abbiamo noi sviluppato di Gisa e consente al personale tecnico delle aree territoriali che è stato dotato di particolari strumenti di supporto tecnologico all'interno dei quali c'è integrata la possibilità di applicare la firma grafometrica, consente, dicevamo, a questo personale di accedere al sistema in maniera controllata tramite autenticazione via SPID. Vedo che c'è una domanda, è accessibile a tutti il sistema? Non capisco bene la domanda, però allo stato attuale è accessibile al personale tecnico delle aree territoriali e ai soggetti controllati, cioè i soggetti controllati verranno autorizzati tramite autenticazione via SPID ad accedere a un'area che noi abbiamo definito cassetto ambientale all'interno della quale saranno presenti i documenti che li interessano e il personale tecnico delle aree territoriali sfrutterà il sistema per supportarlo nelle proprie attività di ispezione e controllo. Non so se ho risposto alla domanda. Abbiamo pensato poi anche di effettuare un'integrazione verso ITER che è il portale dei servizi territoriali di Regione Campania perché presenta al suo interno tutta una serie di ausili molto potenti per chi opera in ambito territoriale anche e soprattutto su ispezioni e controlli. Oggi siamo in fase di rilascio della versione 3.0 di ITER, tra l'altro, che ha tutta una serie di potenziamenti. Siamo partiti per sviluppare il sistema GIS Ambiente dai controlli AIA. Le AIA, come sappiamo, sono le autorizzazioni integrate ambientali e riguardano il processo autorizzativo per l'esercizio di un impianto di una sua parte e sono basate sull'approccio legato alla normativa europea e ai PCC. Perché siamo partiti dalle AIA? Perché ci consentiva di implementare subito una serie di matrici ambientali, tipo aria, acqua, rumore, rifiuti, altre, ne stiamo introducendo nel tempo, e quindi di implementare un sistema di supporto allo sviluppo dei documenti. Chiedo scusa se io non riesco a leggere in tempo reale le domande che vedo che si accumulano sia sulla chat che dall'altra parte. Dicevo, un sistema di supporto quindi alla redazione. Sì, immagino che poi verrà messo a disposizione anche per il personale degli staff. Sì, credo proprio di sì. Dicevamo, sì, questo sistema è a supporto appunto della redazione, di tutta la documentazione, sia legata al prelievo di campioni che alle ispezioni, e consente direttamente in campo la firma digitale del verbale eventualmente prodotto, sia da parte dei soggetti controllati che degli ispettori, in modo tale da produrre immediatamente un documento digitale che poi verrà messo a disposizione dei soggetti appunto coinvolti. Il personale di ispezione è dotato di un sistema di supporto tecnologico che noi abbiamo identificato in un sistema convertibile Racket con firma grafometrica integrata che può operare sia online, quindi direttamente connesso ai sistemi agenziali, sia offline, poiché poi le attività ispettive spesso possono ricadere in aree di scarsa copertura, dati, e quindi deve consentire il sistema di travasare poi i dati raccolti una volta rientrati in ufficio. Abbiamo quindi cercato di realizzare un vero e proprio gestionale avanzato per l'ambiente che consenta al personale tecnico durante le visite ispettive, a partire dalle aneagrafiche degli impianti AIA, di associare all'impianto in questione un fascicolo ispettivo. Un fascicolo ispettivo è composto da varie giornate ispettive, ognuna delle quali può avere come prodotto più attività di campionamento e verifica. I punti di forza del sistema che noi abbiamo cercato di enfatizzare sono innanzitutto la condivisione delle anagrafiche degli stabilimenti soggetti a visite ispettive. Questo punto in particolare poi diventa ancora più rilevante nel momento in cui, come vedremo subito dopo, stiamo ampliando, passando dalle AIA anche all'applicazione del sistema alle AUA. Poi c'è la parte di integrazione appunto mediante un sistema che abbiamo denominato di preaccettazione dei campioni con il sistema LIMSARPAC, il che consente di risolvere buona parte di tutti i problemi legati all'errore di trascrizione, di informazioni, soprattutto nella raccolta dei campioni. E infine i servizi digitali per il cittadino che abbiamo pensato come l'accesso semplificato agli esiti dei controlli mediante il sistema di cassetto ambientale. Oltre a questo, come vi dicevo, abbiamo una serie di punti di forza legati agli sviluppi futuri, alcuni dei quali sono già in fase avanzata di studio. In particolar modo il passaggio che poi è naturale dalla parte dalle AIA alle AUA. Le AUA possiamo vederle come un processo semplificato, a volte legato a una sola matrice ambientale, per le piccole e medie imprese, ma proprio perché legato alle piccole e medie imprese queste sono un numero estremamente più ampio rispetto ai soggetti AIA. Per questo è uno sviluppo che ci interessa particolarmente perché dovrebbe agevolare ulteriormente l'attività dei tecnici in campo. Poi ovviamente ci sono tutte le sinergie con il progetto RAC e RAC2 per adottare l'approccio risk based alla programmazione dei controlli. E infine l'estensione dell'idea di autovalutazione delle imprese anche al settore ambiente. L'abbiamo vista nascere nel settore sanitario e su questo poi lascerei la parola alla collega di Regione Campania, la dottoressa Matondi. Qui ho semplicemente riportato gli sviluppi futuri che stiamo pensando del sistema che dovrebbe essere rilasciato adesso a fine anno e quindi che nel corso del 2023 vedrà sicuramente l'ampliamento dalle AIA alle AUA, l'introduzione della programmazione dei controlli e l'introduzione dell'autovalutazione anche sulle tematiche ambientali. Vi ringrazio e a questo punto lascerei la parola alla collega Matondi. Grazie a lei, mi piace per le difficoltà nell'audio, abbiamo cercato di sopperire come abbiamo potuto. C'era un'osservazione di una partecipante, se la vuole leggere subito. Grazie. Quella della dottoressa Pancaro però penso che sia rivolta più agli staff, è una richiesta che loro e la dottoressa Pancaro tra l'altro credo sia una collega relativa alla documentazione che dovrebbe essere condivisa, quindi speriamo che con questo sistema si riesca ad avere anche una migliore condivisione di tutte le informazioni e documentazioni legate all'ambito ambientale con i vari uffici anche della regione. poiché stiamo adottando questo sistema proprio come elemento comune per tutti i soggetti regionali. Va bene, la ringrazio e chiedo alla dottoressa Matondi di attivare la webcam e il microfono. eccoci. Eccoci, buongiorno. Mi pare che il suo audio sia buono. Speriamo che resista e le passo la parola. Grazie, grazie dell'invito. Allora, vi parlerò di GISA Autovalutazione che è uno strumento software di self-assessment, di trasparenza One Health e fa parte del grande ecosistema software GISA Campania che vi è stato presentato per la parte ambiente dall'ingegner Citarella che mi ha preceduta e che ringrazio. La squadra di GISA Campania, che è una squadra di tipo interdisciplinare, è coordinata dalla regione Campania e in particolare dalla Direzione Generale Tutela della Salute, dall'Unità Operativa Dirigenziale di Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria guidata dal dottor Sarnelli e con la collaborazione dell'Ufficio Speciale per la Criescita e la Transizione al Digitale. È composto da alcune pubbliche amministrazioni, tra cui ARPAC, le ASL e l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno che sin dall'inizio ha collaborato con la Regione Campania. Entriamo nel vivo di questo strumento software GISA Autovalutazione. è una web application che si basa sul concetto di pensiero basato sul rischio e sull'identificazione dei rischi a cui un'attività commerciale può essere esposta con la principale finalità di accrescere la consapevolezza dei fattori di rischio da parte dell'impresa e di supportarla nella loro gestione. Utilizza i dati di GISA Campania che superano il decennio e che alimentano un algoritmo di machine learning. Con un approccio di tipo One Health GISA Autovalutazione prende in considerazione l'intima relazione che c'è tra salute umana, animale e dell'ambiente. E pertanto questa applicazione di self-assessment intende coprire diversi settori. Alcuni, come la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, già sono in esercizio, mentre altri, come la parte ambiente ed il machine learning, sono in fase di implementazione. Ma come ci si autovaluta? Allora, l'impresa risponde alle domande di una checklist che dipende dal settore e dalla linea di attività commerciale e di interesse ed è la medesima lista di controllo che fa parte proprio del sistema dei controlli ufficiali e che è utilizzata dalle autorità competenti deputati a svolgere le ispezioni sull'impresa. Ogni risposta a domande della checklist è caratterizzata da un punteggio che è tanto più alto quanto maggiore il rischio ad esso correlato. Ogni checklist compilata mostra, dunque, alla fine della compilazione un punteggio complessivo e la relativa classe di rischio inerente alla specifica linea di attività autovalutata. Va evidenziato che dalla classe di rischio scaturisce, anche in base al piano dei controlli pluriennale regionale, una diversa frequenza dei controlli ufficiali minimi che le autorità competenti devono compiere. Dunque, con questo strumento compiamo un primo step che consente alla stessa impresa di essere consapevole degli eventuali fattori di rischio connessi alla propria attività e di consentirgli di intervenire ex-ante, laddove necessario, al fine di migliorare l'aderenza alle norme sanitarie e ambientali. GIS Autovalutazione è utilizzabile sia da desktop ma anche come web progressive app da smartphone. Inoltre può essere utile anche a chi non ha ancora un'impresa ed intende avviare una nuova attività commerciale. In questo modo potrà conoscere su che cosa verrebbe controllato e i fattori di rischio connessi all'attività di interesse. Dunque, per le imprese che intendono avviare un'attività commerciale, l'utilizzo di GIS A costituisce un'opportunità di tipo formativo e informativo e dà la possibilità di risolvere dei fattori critici ex-ante, ossia prima di intraprendere l'attività lavorativa, con benefici attesi per quanto riguarda la mitigazione del rischio. Nel caso delle imprese che già sono profilate in GIS A Campania e che liberamente decidono di autovalutarsi, sarà possibile consentire alle autorità competenti la visualizzazione delle checklist compilate in autovalutazione. In questo modo le amministrazioni deputate alle ispezioni considereranno come fattore premiale l'utilizzo del self-assessment da parte dell'impresa, perché costituisce opportunità di informazione, di formazione e di miglioramento continuo. Inoltre l'impresa potrà vedere in GIS A il proprio comportamento storico e qui mi riallaccio all'intervento precedente di Tiziano Lattisi e anche il comportamento predittivo, proprio grazie al machine learning e alla ricca banca dati di GIS A. In questo lavoro abbiamo appunto avuto la preziosa collaborazione dell'Ocse. E' anche da sottolineare che il vantaggio dell'impresa è anche una riduzione dell'importo economico annuale dovuto. Questo perché ai sensi del Decreto Legislativo 32 del 2021 l'importo annuale dovuto dalle imprese è tanto più basso quanto inferiore e la classe di rischio e quindi riuscire a risolvere ex ante dei fattori critici costituisce ovviamente un vantaggio ulteriore per l'impresa stessa. Per le amministrazioni deputate a svolgere controlli ufficiali i vantaggi derivanti dall'uso di questo strumento software sono principalmente di accrescimento della cultura basata sulla consapevolezza del rischio la possibilità di informare e formare le imprese coinvolgendole in questo percorso di apprendimento da cui ci si aspetta una mitigazione dei rischi. Le amministrazioni competenti potranno visualizzare le informazioni del self-assessment inclusive anche degli esiti dell'algoritmo di machine learning e valutarli come dei veri e propri punti di attenzione durante l'espletamento dei controlli ufficiali utilizzando in questo modo in maniera ottimale le risorse disponibili. Questi sono i benefici generali tra cui desidero sottolineare l'equità, la coerenza, la trasparenza nei processi utilizzati dai soggetti competenti durante i controlli e anche nell'attribuzione della categoria di rischio e anche il fatto che in questo modo si rendono pubblici e trasparenti e oggettivi i criteri utilizzati durante il controllo perché vengono rese e disponibili le checklist che sono anche sempre tempestivamente aggiornate all'interno del sistema e questo soddisfa il regolamento dell'Unione Europea 625 del 2017. e inoltre elemento fondante è il fare prevenzione in materia sanitaria e ambientale. Il self-assessment in materia ambientale è in fase di implementazione e intende aiutare le imprese, così come già fatto per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, a verificare la compliance alla norma e ad accrescere la consapevolezza dei punti di forza e di debolezza della propria gestione e delle proprie modalità decisionali. Gisa Autovalutazione, come già detto dall'ingegner Citarella, è disponibile per tutte le pubbliche amministrazioni in riuso gratuito come parte di Gisa Campania e la Regione, con delibera digiunta, ha istituito anche un centro di competenze di supporto al riuso e al ciclo di vita del software di Gisa Campania, a cui partecipano tutte le attuali amministrazioni riusanti, tra cui Friuli e la Regione Valle d'Aosta, con la finalità principale di favorire la condivisione di tutte le evoluzioni di Gisa e rendere più efficace l'uso delle risorse pubbliche disponibili, migliorando i servizi pubblici, accrescendo il valore pubblico e anche ottemperando a quelli che sono i dettami del CAD, in particolare appunto sul riuso, sulla neutralità tecnologica e dunque anche sugli aspetti di condivisione. Io vi ringrazio, qui trovate i miei riferimenti per qualsiasi eventuale richiesta o chiarimento ulteriore. Grazie. Grazie a lei per la presentazione. Grazie mille per la presentazione. Io vi ricordo che potete scrivere in chat le domande e anche le osservazioni, qualcuno lo sta già facendo. chiedo alla dottoressa Cescain di collegarsi, di accendere webcam e microfono. Grazie mille. Le condivido subito il suo documento. Eccoci. Buongiorno. E le lascio la parola. Grazie. Buongiorno, grazie. Grazie per l'invita a partecipare a questa interessantissima, a questa coppia di interessantissimi eventi. Io sono Giannina Cescain, lavoro in Regione Friuli Venezia Giulia. In realtà non sono un'esperta di dominio su questi temi. Ho sentito con moltissimo piacere i relatori che mi hanno preceduto. Io in realtà mi occupo di trasformazione digitale. Perché quindi questo mio intervento in questo contesto, che è un contesto molto di dominio? Perché in realtà i temi della trasformazione digitale, voi sapete, sono assolutamente all'attenzione in questo momento di tutto ciò che riguarda il nostro paese, la pubblica amministrazione, in particolare tutti i fondi PNRR che il progetto Next Generation EU ha messo a disposizione del nostro paese, della pubblica amministrazione, per digitalizzarsi, digitalizzarsi meglio. Quindi il mio intervento in realtà avrà quindi un focus un po' più generale, che riguarda sicuramente dati, dati complessi, i dati ambientali sono sicuramente dati complessi e come con questi dati possiamo aumentare la conoscenza. Conoscenza del territorio, conoscenza delle imprese, conoscenza ambientale, per perseguire un po' tutte le finalità che sono parte fondante del lavoro della pubblica amministrazione. Quindi il ciclo di vita, il processo abbiamo visto, il focus è sulla sorveglianza ambientale di questo webinar, ma questo tema si inserisce in un processo che i relatori che mi hanno preceduto hanno spiegato benissimo, un processo molto più complesso e un processo circolare. Ognuno dei tasselli, delle attività che vedete in questo grafico, che ho proprio semplificato, quindi consentitemi la semplificazione, fa parte di un processo, quindi ogni procedimento fa parte di un processo molto più complesso e importante che è quello della salvaguardia, del diritto a fare impresa, ma anche della salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Quindi abbiamo bisogno di coordinare tutte le azioni di questo circolo virtuoso dove la sorveglianza, dicevamo, è uno dei tasselli, ma la sorveglianza ha, e ci avete spiegato benissimo, una serie di dati in input, dati che arrivano dalle attività precedenti e produce una serie di dati di output che servono per le attività successive. Questo consente in qualche modo di migliorare l'attività complessiva del processo autorizzativo, consente di valutare le autorizzazioni, di valutare come le imprese hanno implementato quanto prescritto e migliorarne tutto il processo. Per fare questo, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, ma insomma ce lo hanno spiegato bene i relatori che mi hanno preceduto, di superare quella che è la logica silos. La logica silos che prevede noi abbiamo, voi avete tantissime date, tantissime informazioni, un bagaglio storico di anni salvati in diversi applicativi, magari ognuno di questi gestisce una di quelle box dell'intero processo, altri magari sono su dei pdf, altri sono nella carta, inserita nei cassetti di qualche servizio e poter mettere a disposizione tutte queste informazioni in un modo strutturato e logico ci consente di prendere, consente anche agli organi decisori di prendere decisioni in modo più basato sulle informazioni, quindi decisioni più chiare e certe, con dati certi, che è un po' forse a volte quello che manca nei processi decisionali ad alto livello, avere tutta l'informazione di contesto per poter prendere delle decisioni. quindi soprattutto l'utilizzo dei dati e la strutturazione dei dati in un certo modo consente di superare un po' anche le varie logiche di lock-in che abbiamo sentito prima, tecnologiche, noi sappiamo che comunque la tecnologia progredisce in maniera rapidissima, questo vuol dire poter cambiare software, utilizzare nuovi software, utilizzare nuove tecnologie, abbiamo sentito parlare molto di machine learning, quindi avere un dato slegato dalle applicazioni ci consente di non essere legati a applicazioni o tecnologie particolari. Come possiamo fare? Qual è la logica che sottende a tutto questo? Costruire, alzare lo sguardo dal progetto e costruire una semantica, un linguaggio comune che sia comprensibile a tutti i sistemi. Quindi descrivere i vari oggetti, oggetto di autorizzazione piuttosto che di sorveglianza, piuttosto che di programmazione, con un linguaggio trasversale e comprensibile ai sistemi. Perché qui ho messo l'immagine di un vocabolario? Perché è proprio quello che si fa nel linguaggio naturale, cioè ognuno di noi parla una lingua comprensibile a chi ci sta ascoltando. Dobbiamo farlo anche per i sistemi informativi, dobbiamo farlo anche per i software. La possibilità di far scorrere l'informazione da un'attività del nostro ciclo ad un'altra rende sicuramente il processo molto più efficace ed efficiente. Quindi immaginare, descrivere semanticamente gli oggetti, semanticamente vuol dire con un significato che consente ai diversi sistemi IT di interfacciarsi poi in modo efficiente, di capire, di conoscere già come passa l'informazione e costruire magari anche un'ontologia di relazioni tra i vari oggetti è quello che poi ci consente di fruire in qualsiasi punto del nostro ciclo, ma anche all'esterno vedremo delle informazioni presenti. Come abbiamo proceduto in Friuli Venezia Giulia? Abbiamo provato ad applicare quello che vi ho detto su una serie di oggetti ambientali, abbiamo fatto un esperimento, abbiamo mappato, abbiamo costruito la semantica degli oggetti che qui vedete rappresentati, quindi dai camini alle discariche, agli argini fluviali, agli impianti fotovoltaici, alle cave, agli scarichi, agli elettrodotti, insomma abbiamo provato a descrivere, sempre basandoci sulle norme, con un occhio e un'attenzione alle norme europee e nazionali, in modo da descrivere gli oggetti e il contenuto poi di questi oggetti in funzione anche della trasmissione delle informazioni che poi ogni servizio, ogni direzione deve fare verso l'Italia, verso il centro, quindi verso il ministero e verso l'Europa. Il risultato di questo sono stati una serie di, qui è piccolissimo, l'ho messa solo per farvi vedere cosa questo sta a significare, una serie di descrizioni traducibili in XML piuttosto che in JSON di questi oggetti all'interno di un database relazionale, quindi sono stati descritti gli oggetti, la descrizione è stata fatta dagli esperti di dominio, quindi l'informatica ha dato solo un supporto e si è messa a fianco portando vicino strumenti e tecnologie, ma tutto il lavoro è stato fatto dagli esperti di dominio e poi si sono costruite le relazioni tra gli oggetti. Questo, vi assicuro, è stato un lavoro importante ma che anche ha messo a nudo una serie di criticità. Lo stesso termine, lo stesso campo, lo stesso dato aveva un significato diverso nei vari servizi della direzione. potete immaginare che se parlandosi tra persone si può colmare, si può sopperire la diversità di significato attribuito a un dato, questo non è possibile se il dato fluisce attraverso i sistemi. Cioè è importante che il dato nasca e il significato sia concordato tra tutti i sistemi che poi questo dato lo vanno ad utilizzare. dopo quindi aver descritto e soprattutto fatto questo grande lavoro con l'aiuto dei colleghi di standardizzazione dell'informazione e quando parlo di standardizzazione parlo di standardizzazione per sistemi informativi abbiamo provato a portare questa informazione inserita, vi dicevo, quindi in un database relazionale e qui siamo solo in descrizione degli oggetti e non c'è informazione contenuta ancora e l'abbiamo portata in un db a grafo. Questo cosa ha fatto immediatamente, cosa è saltato immediatamente all'occhio? Che le relazioni scritte in un db relazionale fisse e finite all'interno di un db a grafo hanno dato la possibilità di sviluppare, di navigare infiniti percorsi per trovare informazioni collegate. Qui voi in piccolo dove vi ho cerchiato? Io sono, in questo caso, il db a grafo è partito da un'area, quindi una referenziazione, una geolocalizzazione di un'area e da quest'area potete vedere che possono essere collegati diversi oggetti ambientali che possono essere cave, pozzi, scarichi, tutti gli oggetti che abbiamo visto prima. Ognuno di questi poi ci sono collegati una serie di documenti, di progetti, di ispezioni, di verbali, di autorizzazioni, ma a queste è collegata sicuramente anche un'impresa e passando poi all'impresa possiamo trovare tutte le relazioni che l'impresa ha nel territorio e con i vari oggetti. Questo ci consente di esplorare anche mondi e relazioni che forse sulla carta o guardando un unico sistema non sono sempre perfettamente chiari. Abbiamo poi questo è sempre un database a grafo dove qui abbiamo portato non solo abbiamo inserito nella descrizione degli oggetti le informazioni. Qua vedete l'esempio delle cave presenti nella provincia di Trieste con tutti i pallini verdi sono progetti autorizzazioni vincoli prescrizioni date ci sono le ispezioni fatte ci sono gli esiti delle ispezioni quindi navigando questo database a grafo navigabile anche da non informatici quindi è uno strumento molto semplice si possono trovare relazioni correlazioni e informazioni su vari su tutti i dati che ci possono interessare in questo caso la navigazione avviene addirittura attraverso la costruzione di frasi direi quasi in lingua italiana uso un quasi perché un minimo di formalismo c'è ma molto poco abbiamo poi portato per renderlo ancora più complessibile anche se vi dicevo che il database a grafo è sicuramente un database facilmente navigabile l'abbiamo portato su mappa quindi selezionando un'area su mappa è possibile individuare gli oggetti ambientali presenti in quell'area e da questo navigare attraverso i dati che prima vi ho mostrato questo cosa consente ma lo hanno detto benissimo i colleghi che mi hanno preceduto è possibile mettere a disposizione una serie di informazioni metterle a disposizione degli utenti per fare autovalutazione metterle a disposizione degli stakeholder più ampi che possono essere direttamente interessati all'azione amministrativa ma e anche a tutti i portatori di interesse questo perché noi sappiamo che la tutela dell'ambiente e del territorio è uno dei focus nella progettualità europea e nazionale del prossimo decennio quindi sicuramente tutte queste informazioni ovviamente la parte che si può rendere disponibile può essere consultabile messa a disposizione di tutti gli stakeholder interessati di tutti gli utenti interessati questo crea sicuramente un circolo verazioso consente l'abbiamo già visto il GISALO fa processi di autovalutazione consente di capire come la nostra azienda è posizionata sul territorio consente di farlo verificare agli utenti agli amministratori consente di prendere decisioni tutto questo è supportato da ovviamente i progetti di cui stiamo parlando in questi due webinar sono partiti molto prima ma il piano di ripresa e resilienza in particolare due progetti seguiti dal Dipartimento per la trasformazione digitale sono assolutamente in linea con quanto è stato rappresentato anche in data odierna due progetti vorrei portare alla vostra attenzione che sono la piattaforma digitale nazionale dei dati che consente l'interoperabilità tra i sistemi quindi quello che dicevo prima ma la piattaforma si basa sul National Data Catalog sul catalogo nazionale dei dati catalogo nazionale dei dati che se voi andate a navigare il link schema.gov .it che poi al limite vi metto in chat per chi non lo conoscesse vedete che tra le varie materie che stanno descrivendo ci sono anche le materie ambientali quindi i dati verranno descritti a livello centrale il lavoro che abbiamo fatto e con il quale siamo anche collegati con chi sta realizzando il catalogo è di portare la descrizione semantica e l'ontologia degli oggetti ambientali a livello nazionale in modo che il linguaggio non sia solo condiviso all'interno di una regione tra le regioni che partecipano a questi progetti ma proprio a livello di paese quindi a livello nazionale la piattaforma digitale nazionale dei dati consente proprio l'interoperabilità tra le banche dati vorrei portare alla vostra attenzione che il 22 di novembre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un decreto del dipartimento che dice che entro il 30 settembre del 2023 intanto le banche dati di interesse strategico ma comunque tutte le banche dati tutte le amministrazioni dovranno costruire le API e mettere a disposizione le banche dati sulla PDMD quindi tutto quello che qui abbiamo sentito trova anche poi un suo punto di ricaduta sui progetti PNRR a livello nazionale io con questo avrei concluso il mio intervento vedo che siamo un pochino fuori dai tempi perché potevo anche navigare sui grafi ma se poi qualcuno è interessato vi lascio i miei riferimenti potete contattarvi per anche un approfondimento sul di viagrafo e sulla navigazione tra i diversi oggetti dottoressa se lei vuole intanto far vedere la navigazione può tranquillamente siamo nei tempi allora perfetto se siamo nei tempi vi faccio io avevo riportato appunto in slide avevo riportato due grafici giusto per per mostrarvi ma visto che ho un attimo di tempo vi faccio vedere esattamente quello che vi ho mostrato io sono sul database e sul grafo a questo punto che collega gli oggetti non i dati ho fatto una ricerca per area che era esattamente quello che vedevamo prima lato quello che vedevamo prima lato slide lato cartografia partendo da un'area io posso esplodere quest'area qui vedete quanti oggetti abbiamo già descritto e sono collegati a un'area quindi non solo oggetti non solo oggetti diciamo ambientali ma ci sono anche i mercati ci sono anche delle geometrie poi abbiamo mappato tutta la parte che riguarda l'edilizia quindi tutte quelle che sono gli immobili scusate se io parto poi dalla cava che era un po' il focus che hanno sulla quale anche i colleghi della sorveglianza si sono concentrati come primo esempio di attività e di standardizzazione dell'attività di sorveglianza vediamo che una cava è collegato a un progetto sulla cava ci sono dei vincoli ambientali c'è una superficie autorizzata c'è la presenza di strutture di sollevamento tutte queste sono a loro volta mappate se io poi passo al progetto vedo che all'interno del progetto ho una serie di dati e di relazioni compresa l'autorizzazione e quando esplodo l'autorizzazione e qui cominciamo ad aumentare avrò anche l'impresa autorizzata arrivando all'impresa autorizzata quindi alla persona giuridica posso conoscere tutto ciò che questa persona giuristica quindi il collegamento della persona giuridica con tutto il resto dei dati e degli oggetti descritti questo ci consente di fare su questo poi abbiamo visto c'è la possibilità di verificare sopralluoghi verbali se poi passo invece alla visualizzazione sul dato quindi qui vi dicevo qui siamo all'interno dei dati vediamo se si apre in questo caso ho aperto un'informazione abbiamo inserito all'interno delle strutture dati le informazioni qui ho selezionato forse non lo vedete è molto piccolo con un linguaggio quasi naturale estrai le cave in provincia di Trieste con volume autorizzato maggiore di 0 m3 e qui trovo tutte le cave in provincia di Trieste se poi comincio come prima vi dicevo a espandere le informazioni trovo tutto ciò che è associato a questa cava e qui nei pallini verdi abbiamo tutte informazioni di tipo diciamo documentale quindi autorizzazioni progetti variazioni prescrizioni abbiamo in viola i sopralluoghi effettuati con la data e i risultati e abbiamo poi le verifiche dell'attività nonché tutto l'estratto tutti i dati che chi gestisce la cava deve fornire deve dare all'interno del processo ogni anno quindi c'è un progress c'è un aggiornamento continuo e chi naviga può verificare lo stato attuale del oggetto ambientale che sta vedendo e le relazioni ovviamente questo tipo di soluzione non è una soluzione per chi gestisce il contesto quindi per chi per il servizio che gestisce autorizza le cave ma può essere un ottimo modello di analisi e navigazione del dato per chi ha bisogno di informazioni un po' più ampie un po' più di contesto per prendere in questo caso delle decisioni vi ringrazio se non non c'è se non vedo le domande perché probabilmente ho attivato se ci sono non ci sono domande io la ringrazio per la presentazione benissimo perfetto la ringrazio moltissimo soprattutto ecco della diciamo della spiegazione pratica che ha reso veramente molto interessante la sua esposizione io chiedo al dottor Ceschia di accendere webcam e microfono eccola vedo ecco la sua presentazione passo la parola al dottor Ceschia buongiorno mi presento mi chiamo Iannick Ceschia sono un veterinario e mi occupo già da diversi anni dell'applicazione di strumenti informatici alla sanità veterinaria alla sicurezza alimentare in generale alla medicina preventiva pubblica lavoro per GP e in questo quadro in questo contesto ho collaborato ho lavorato con per la regione Friuli Venezia Giulia allo sviluppo del progetto che adesso andrò a presentarvi il titolo della presentazione è il simulatore di non conformità come strumento innovativo per la standardizzazione delle ispezioni stato dell'arte del progetto Friuli Venezia Giulia con questa prima slide voglio proprio introdurre entrare nel cuore di quello che dell'argomento di questa presentazione dopodiché farò un passetto indietro e vi presenterò il progetto dall'inizio l'argomento non è l'ambiente ma il controllo il controllo inteso come il controllo ispettivo in particolare quel controllo ispettivo che non viene fatto con l'ausilio di misurazioni di campionamenti ma quel controllo che viene realizzato dalla valutazione quindi la valutazione di un tecnico specializzato con il manual checklist di fronte a una determinata situazione a un determinato contesto le valutazioni di per sé hanno un carattere di soggettività e abbiamo osservato che molti dei giudizi che delle valutazioni che emergono da questa tipologia di controlli presentano un importante livello di disomogeneicità quindi in parole povere diversi controllori di fronte allo stesso contesto è possibile che vadano a effettuare delle valutazioni più o meno divergenti il simulatore di non conformità è la strategia che abbiamo individuato proprio per andare a contrastare per andare a risolvere questo problema quindi l'utilizzo di uno strumento di formazione attiva partecipativa di uno strumento di autovalutazione questa volta destinato ai controllori di condivisione e confronto appunto tra i controllori e con la direzione adesso faccio un passo indietro e partiamo dal nostro progetto il progetto il progetto è stato un progetto della regione Friuli-Venezia-Giulia realizzato in collaborazione con Ocse ed è un progetto di semplificazione delle procedure amministrative quindi l'obiettivo primario del progetto era la collaborazione tra pubblico e privato abbiamo individuato come settore il settore lacchiero caseario quindi un ambito di controlli di sicurezza alimentare e l'obiettivo specifico era proprio di realizzare controlli più efficaci mirati quindi aumentare la qualità del controllo andando a ridurre l'impatto del controllo sulle imprese del settore quindi controlli di qualità migliore con meno quantità quindi con minore impatto sulle imprese abbiamo adottato diverse strategie la prima la conoscenza quindi sono state redate delle linee guida sono stati redati dei manuali buone prassi sono stati diffusi alle imprese sono state elaborate nuove checklist checklist è lo strumento principe del controllo una buona moderna checklist in grado di influenzare condizionare in modo importante l'efficacia in controllo e questo è il punto su cui siamo entrati col simulatore abbiamo sviluppato una nuova metodologia di pesatura del rischio proprio perché volevamo andare a potenziare a migliorare la qualità della valutazione del rischio per poter andare a individuare a mirare i controlli sulle imprese appunto a maggior rischio il rischio il rischio già la pesatura del rischio i controlli venivano anche in precedenza basati sulla valutazione del rischio il rischio in precedenza utilizzato era un rischio statico in questo progetto il rischio statico è stato rivisto ed è stato integrato con un rischio dinamico il rischio statico è un rischio oggettivo quindi un rischio basato su una misurazione di dati dati appunto statici che cambiano poco nel tempo il tipo di attività svolta la dimensione di un mercato la presenza di certificazioni questa metodologia di rischio statico è stata rivista ma il metodo conosciuto dai controlli è rimasto tendenzialmente quello a questo è stato aggiunto un rischio dinamico quindi un rischio basato su una valutazione quindi un rischio basato sull'esito dell'attività ispettiva sull'esito dei controlli con una metodica nuova che i controllori non conoscevano il rischio finora non era stato pesato in questa maniera ci attendevamo ci aspettavamo fondamentalmente una sovrapposizione tra i due rischi ci aspettavamo che il rischio dinamico in linea di massima confermasse quello statico per poi andare puntualmente a trovare delle differenze invece così non è stato abbiamo riscontrato un'importante discrepanza ci siamo chiesti perché e abbiamo analizzato i dati dall'analisi dei dati la prima cosa che abbiamo osservato sono stati degli errori degli errori nella registrazione del rischio dinamico che non c'erano nel rischio statico quindi checklist compilati in modo parziale valutazioni incoerenti evidenze incoerenti con la registrazione stessa questo abbiamo ipotizzato che questo fosse dovuto alla nuova metodica introdotta quindi fosse un problema di formazione degli operatori abbiamo tolto questi errori dalla nostra dai dati abbiamo bonificato i dati da questi errori ma la discrepanza tra rischio statico e dinamico permaneva abbiamo allora ipotizzato che il problema fosse nella valutazione nella valutazione dei dati cosa abbiamo fatto per cercare di analizzare questa componente abbiamo siamo rivolti ai dati storici quindi siamo andati a estrarre dal gestionale su cui venivano registrati i dati dei controlli i controlli dei tre anni precedenti all'introduzione alla partenza del progetto abbiamo individuato un specifico piano un specifico ambito di controllo abbiamo individuato dei controllori che hanno operato consecutivamente per tutti e in modo costante nel tempo per tutti i tre gli anni su questo piano utilizzando la stessa metodica di controllo abbiamo selezionato tra questi solo i controllori che avevano un numero omogeneo di controlli e che nel tempo avevano ruotato tra diversi stabilimenti quindi abbiamo escluso quelli che erano rimasti più tempo sui medesimi stabilimenti ecco di questi controllori abbiamo preso tutte le verifiche che avevano eseguito abbiamo valutato e li abbiamo preso e li abbiamo divise in base alle loro valutazioni quindi vedete ogni colonna corrisponde a un controllore il colore verde sono le verifiche conformi che hanno dato le viola sono i non conformi e le azzure sono quelle dove hanno dato un'osservazione quindi dove l'esito è stata un'osservazione vediamo subito che abbiamo controllori che nei tre anni hanno avuto o hanno dato un esito conforme a oltre il 90% dei controlli abbiamo controllori dove l'esito conforme non ha raggiunto il 60% dei controlli c'è stata quindi chiaramente ci sono una serie di motivazioni di giustificazioni è stata diciamo un'analisi dove abbiamo preso alcuni elementi però è evidente una disomogeneicità nella valutazione degli operatori questa disomogeneicità diventa ancora più importante e più grave se su questa sull'esito dell'attività ispettiva vogliamo basare la valutazione del rischio quindi vogliamo andare proprio da qui a definire dove faremo i controlli abbiamo cercato quindi delle soluzioni prima soluzione la formazione ma non volevamo fare una formazione tradizionale di tipo passivo frontale o con dell'autoprendimento o con del materiale formativo volevamo una formazione più 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 attiva una formazione più coinvolgente più partecipativa e quindi da qui è nata l'idea del simulatore quindi di creare uno strumento di simulazione che potesse aiutare una formazione più integrata quindi con un prendente sia attività di formazione frontale ma anche di autoprendimento di autovalutazione e di confronto di confronto con i colleghi e che al tempo stesso fosse anche uno strumento di analisi e monitoraggio a livello direzionale che la direzione potesse rendersi conto dell'evoluzione della formazione degli operatori materiali e metodi abbiamo quindi nel contesto del software dell'applicativo in uso alla regione per la registrazione dei controlli sviluppato un simulatore quindi una componente parallela configurata con una realtà proprio parallela dove gli operatori potevano entrare e registrare dei controlli delle simulazioni di controllo sono state predisposte del materiale sono state predisposte del materiale formativo sia in forma scritta che sul supporto con dei video utile sia a un ripasso sulla funzionalità di caricamento a sistema di queste checklist che proprio del funzionamento quindi i video che spiegano il funzionamento del simulatore stesso e poi sono stati definiti dei casi d'uso è stato creato un catalogo di casi d'uso quindi di un catalogo di ipotetiche non conformità di evidenze sui quali alle quali rispondere con la compilazione delle 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 checklist con le valutazioni abbiamo proceduto quindi a realizzare le simulazioni quindi le simulazioni sono state al momento simulazioni collettive dove siamo partiti da una formazione da una condivisione del materiale da una sessione di formazione frontale online da una condivisione dei casi d'uso che sarebbero stati utilizzati in quella formazione chiaramente senza fornire quello che gli organizzatori si attendevano come risposte e a quel punto ogni operatore ha proceduto a registrare caso d'uso alla mano il suo ipotetico controllo appena terminata la registrazione abbiamo elaborato i dati e condiviso i risultati con gli stessi operatori per stimolarne il confronto e a livello direzionale per un monitoraggio abbiamo fatto due sessioni di simulazione al momento la prima simulazione è stata l'obiettivo della prima simulazione era quello di ridurre e lavorare sugli errori quindi sugli errori che avevamo visto all'inizio abbiamo creato quindi dei casi d'uso estremamente semplici che non dovevano dare grandi possibilità di diverse valutazioni e abbiamo effettivamente notato che gli errori erano tanti perché solo il 62% il 62,5% dei controlli registrati in questa prima simulazione erano corretti privi di errori gli errori erano esattamente quelli che avevamo visto prima in completa compilazione in coerente valutazione a questa simulazione è seguito un confronto chiaramente abbiamo fatto una seconda sessione di simulazione finalizzata questa volta alla valutazione quindi alla gestione del a capire le diverse valutazioni capire quali erano gli errori che venivano fatti gli errori o semplicemente le diverse interpretazioni di valutazione come prima cosa abbiamo notato che in questa seconda sessione le registrazioni le registrazioni con errore erano molte meno quindi la prima sessione e il tempo avevano sicuramente agito in modo positivo l'86,7% delle registrazioni erano prive di errori invece abbiamo notato diversa una importante disomogeneità divergenza nelle valutazioni e queste divergenze erano di due tipi uno erano le interpretazioni d'ambito cioè di fronte alla medesima descrizione di un'evidenza di una non conformità i controllori l'hanno interpretata come non conformità su diverse tipologie di ambito vedete la prima colonna 2.1 corrispondeva a una non conformità ma le due colonne quelle più piccole l'ultima e la quartultima in realtà non erano previste ma diversi operatori hanno interpretato la descrizione della prima colonna come non conformità su questi due ambiti stessa cosa dicasi per la seconda colonna la terza era una colonna che nelle intenzioni di chi ha scritto l'evidenza non doveva esserci ma molti i controllori l'hanno interpretata come una non conformità in quell'ambito l'altra è stata l'altro evidenza l'altro problema che abbiamo evidenziato è proprio la diversità delle valutazioni basta guardare la prima colonna e l'ultima colonna dove a fronte della stessa descrizione quindi descrizione piuttosto dettagliata c'è chi ha valutato erano entrambe delle non conformità c'è chi l'ha valutato come non conformità una non conformità maggiore chi come una non conformità ma minore chi come un'osservazione addirittura chi come una conformità quindi c'è un'evidente divergenza di interpretazione lo schema più piccolo corrisponde alle stesse valutazioni però lo schema grande sono gli ambiti di controllo lo schema con quello con più coloni questo sotto corrisponde ai vari check elementi delle checklist utilizzati vediamo che l'andamento è lo stesso quindi il problema che avevamo osservato è stato confermato e il simulatore su questo aveva funzionato ed è stato molto interessante il confronto che ne è seguito quali i prossimi passi? i prossimi passi sicuramente procedere con sessioni di simulazione per comprare i risultati e vedere l'andamento elaborare un catalogo d'uso più completo e puntuale per andare a cercare il più possibile di coprire tutte le principali casistiche di non conformità quindi verso uno standard della valutazione e trasformare questo strumento che oggi è uno strumento ad uso collettivo in uno strumento ad uso libero libero per ogni controllore dove ogni controllore ogni gruppo di controllori può andando a selezionare dei casi d'uso confrontarsi con lo strumento e infine avere un confronto con i risultati attesi da chi quei casi d'uso li ha scritti una considerazione abbiamo visto per una puntuale pesatura del rischio è essenziale la standardizzazione del controllo ispettivo la standardizzazione del controllo ispettivo può venire sicuramente con l'usilio checklist ma probabilmente non basta in questo contesto riteniamo che l'applicazione di simulatori possa essere un valore aggiunto molto importante verso questo raggiungimento di questa standardizzazione verso questo obiettivo io vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono a disposizione grazie a lei per la presentazione al momento non ci sono domande invito i partecipanti ad approfittare di questi ultimi minuti rimasti per scrivere le domande eventuali domande in chat ma ricordo loro che è possibile poi anche scrivendo alla posta di progetto se dovessero sorgere delle domande o dei dubbi o semplicemente se qualcuno volesse poi scrivere anche ai relatori ho visto che nelle slide a chiusura delle slide ognuno ha lasciato il suo indirizzo di posta però ricordatevi che c'è sempre l'indirizzo ufficiale del progetto quindi delivery unit chiocciolaformez.it mentre aspettiamo che arrivi qualche osservazione o qualche domanda intanto vedo che cominciano ad arrivare i saluti volevo ringraziare tutti i relatori per queste presentazioni veramente molto interessanti su un tema tanto sensibile e forse mai abbastanza affrontato o considerato se non nei momenti di estrema emergenza volevo invitare il dottor Amigoni che ha seguito tutto il percorso e che ha organizzato anche il percorso a chiudere i lavori e quindi a portare il suo saluto le lascio la parola grazie ma molto molto rapidamente richiamo per punti avrete notato l'impegno costante dei territori come perno del progetto RAC che avevo richiamato nella mia introduzione che è un elemento chiave di convergenza sia metodologica che di possiamo chiamarla disseminazione culturale anche a livello tra regioni c'è un tema di implementazione degli autocontrolli di cui si è parlato oggi come un elemento premiale nel caso della dottoressa Matonti per esempio nell'ottica che è quella della spinta gentile richiamata anche da Cass Sunstein e Thaler nel loro saggio che riguarda appunto la spinta gentile ci sono le fonti di dati esterne come elemento di controllo ad esempio il web che è stato richiamato da Tiziano Lattisi come ulteriore elemento di possibile controllo delle ispezioni e dei dati richiamo anche il ruolo abilitante della tecnologia che nell'intervento invece della dottoressa Ceskin implica un lavoro linguistico e ontologico e di relazione come nel caso del grafo appunto e c'è una trasversalità dei benefici di rete lo sviluppo io sviluppo un'innovazione nel settore food come nel caso dell'ultimo intervento di Yannick Ceschia però lo posso poi applicare altrove e non necessariamente soltanto in Italia il gruppo Ox sta valutando da questo punto di vista emergenze come quella appunto di Yannick che possono essere implementate raffinate e applicate anche in altri settori in altri territori anche esteri per chiudere voglio anche ringraziare Formez perché il webinar come questo piccolo ciclo che abbiamo prodotto insieme con Ox e Formez è stato sicuramente e può essere un propulsore ulteriore di cambiamento su queste tematiche quindi grazie e buona giornata ringrazio il dottor Amiconi c'era il dottor Plossi che aveva chiesto di prendere la parola io ho autorizzato il microfono può accendere microfono e webcam eccolo qui vedo che lo ha acceso salve buongiorno buongiorno la sentiamo però non la vediamo deve accendere la webcam sono un relatore della precedente edizione del webinar ecco la vedo mi veniva in mente una proposta a questo punto nella scorsa volta noi abbiamo presentato una proposta di checklist che consente una comprensione dinamica con la segnazione di un punteggio il lavoro presentato da Cesca è estremamente interessante e si potrebbe utilizzare un database delle checklist compilate con punteggi relativi per costruire un archivio una casistica per l'istruzione dei successivi controlli o questa è la proposta ecco è un'idea da sviluppare per carità ho detto grazie mi sembra un ottimo modo per lasciarci quindi è un bel ponte anche perché mi sembra assolutamente in linea con con l'idea di questi due webinar per l'evidenza di una rete e della proprio della dell'importanza della disseminazione delle esperienze mi sembra veramente fondamentale detto questo io ringrazio tutti per la partecipazione ringrazio i relatori ringrazio i partecipanti e vi do appuntamento alla prossima volta grazie e buona giornata a tutti grazie 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 grazie